Facoltà. Grazie. Grazie Presidente. Colleghi, Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta della Giunta, in quanto la condividiamo completamente. Vedete, il giudice per le indagini preliminari di Torino ha violato palesemente non soltanto la legge, ma la Costituzione. Quindi il Senato non può rimanere indifferente di fronte a un fatto così grave. Un magistrato della Repubblica che ha il compito di applicare la legge la viola platealmente, perché anche uno studente del primo anno di giurisprudenza sarebbe in grado di leggere e interpretare correttamente l'articolo 6,2 della legge numero 140 del 2003, che applica l'articolo 68 della Costituzione, il quale articolo 6,2 recita che l'autorità giudiziaria, ove intenda utilizzare nei confronti del parlamentare, in questo caso di chi era parlamentare all'epoca, intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, deve rivolgere, deve rivolgere la richiesta aperte virgolette alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Mi sembra una disposizione chiarissima e inequivocabile. Cosa ha fatto invece il giudice per le indagini preliminari di Torino? Prima, di fronte all'eccezione della difesa, si è riservato di decidere. E poi, come sottolineava il relatore poco fa, non ha deciso in ordine a questa eccezione, salvo che avrebbe avuto comunque il diritto dovere di decidere d'ufficio, non ha deciso d'ufficio, non ha deciso su istanza della difesa, ma nel decreto che dispone il giudizio ha considerato queste incercettazioni come fonte di prova sulle quali basare il rinvio a giudizio. Una violazione plateale della legge, una violazione plateale della Costituzione contro la quale è giusto che il Senato oggi decida di sollevare il conflitto di attribuzione, fermo rimanendo che quando la Corte Costituzionale avrà inevitabilmente annullato questo atto tanto abnorme, poi sarà nostro compito, sarà compito della Giunta prima e dell'Aula poi, valutare se queste intercettazioni rivestano o meno quel carattere di occasionalità sulla base del quale, come sappiamo, sarà possibile o meno dichiararle utilizzabili. Ma questa è una prerogativa esclusiva del Senato e nessun giudice della Repubblica si può permettere di calpestarla. Grazie.